Hanno teso un agguato all'impiegata della sala giochi e sono fuggiti con 5.000 euro. Tre uomini a volto coperto si sono nascosti nel cortile che conduce alla porta posteriore di una sala giochi di via Columbo. Hanno atteso l'arrivo dell'impiegata e le hanno intimato di consegnargli il portafoglio. La rapina è avvenuta questo pomeriggio. La donna stava entrando nell'edificio quando i malviventi l'hanno sorpresa alle spalle, minacciandolo con un'arma puntata alla schiena. I rapinatori che parlavano con un accento straniero si sono impossessati del portafoglio, conservato dall'impiegata e contenente 5.000 euro in contanti per il fondo cassa della sala giochi. Una volta ottenuto il bottino i tre uomini sono scappati a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul caso indaga la polizia.